Come al solito vi do il buongiorno e vi comunico che respiro. E quei due soliti, il signor Galas e il signor professor Parisi, mi hanno sollecitato a tornare a parlare e a esporre dei problemi. Io oggi ne avrei uno. Mi piacerebbe analizzare con voi due parole, una popolo e l'altra sindacato. Allora mi piacerebbe analizzare di che cosa ha fatto il popolo. Il popolo è fatto di tante persone che respirano come sottoscritto e che hanno vari problemi. Ma il popolo non è fatto solo di laureati, di imprenditori, di gente che sta bene ed è ricca. Il popolo è fatto per la maggior parte di gente semplice, lavoratori, che molte volte tirano la caretta per arrivare la sera, avendo guadagnato magari anche a pochi soldi. E quindi la maggior parte del popolo non è una parte elittuaria. Elittuaria, no? Giusto Parisi? Che non dica che cosa. Cioè un'elite. L'elite è una piccola parte. Allora questo popolo, secondo voi, che diritti ha? È una cosa importante o è una cosa da poco? Allora tutti i partiti, l'ho già detto in un'altra trasmissione, se ne lavano la bocca. Popolo chi? Popolo là. Allora quando questo popolo manda i propri figli a scuola, elementare, all'università, li manda alle scuole superiore, li manda alle scuole materne, li manda all'asilo nido. Ha dei diritti o non ha dei diritti? Secondo voi, secondo mio parere, hanno dei grandissimi diritti. Perché siccome la maggior parte delle persone, abbiamo detto, non è abbiente, nel senso che dicevo prima, elittuario, ma è gente semplice. Quando manda i propri figli a scuola, li manda perché deve lavorare uno, diciamo più alle scuole materne all'asilo nido, ma manda i propri figli perché vengano istruiti e li dà nelle mani di insegnanti che, secondo il popolo, non dovrebbero essere solo insegnanti, ma anche, in certo senso, dei sostituti famiglia, dei sostituti genitori, e fossero anche molte volte comprensivi di situazioni che ci sono dalla parte del popolo, che intendo io. Invece questo non avviene, molte volte non avviene. Perché il corpo insegnante italiano è una lobby, che dice che le lobby dei siori, che i farmacisti, che le lobby dei vocali, no, c'è anche le lobby degli insegnanti. Perché con la storia della libertà didattica, eccetera, 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 molte volte non si comportano come avrebbero da comportarsi, perché dovrebbero pensare una cosa molto importante. Il lavoro, come è oggi il lavoro? Quante sono le persone che hanno la sicurezza di avere un posto a tempo indeterminato per tutta la vita, fino a quel famoso popolo? È composto per la maggior parte di gente che oggi non ha la garanzia del tempo indeterminato, indeterminato, perché o fallisse una ditta e sono magari assunti a tempo indeterminato, ma essendo fallita a tempo indeterminato non ha superato il cammino. È giù di questo passo le banche che riducono il personale, tutta una serie di situazioni per cui il tempo indeterminato nel nostro paese è un privilegio che ha una determinata parte degli impiegati e di coloro che lavorano. Tra questi ci sono gli insegnanti. Al corpo insegnante allora io potrei dire è vero che avete la libertà didattica, per l'amor della donna, ma è vero che avete il tempo indeterminato, è vero che siete una classe che ha delle difficoltà alle volte a comunicare cose, ma è anche vero che c'è un popolo che vi affida i propri figli perché li istruiate e perché li prepariate alla vita. Allora io mi domando, mi domando, è proprio necessario fare l'ora sindacale, le due ore sindacali durante l'ora di insegnamento e creare a parte dei lavoratori delle grossissime difficoltà per quella maniera di cercare il nonno, la zia, la cosa che gli attegna i putelotti, perché si fanno le due ore di assemblea sindacale durante le ore di insegnamento? Non è corretto, mi spiace, mi spiace. Allora abbiamo analizzato il popolo, analizziamo il sindacato, andiamo a vedere il sindacato, qual è la funzione del sindacato. Tutti, ah i sindacati, ragazzi, i sindacati. Io no, no, mi spiace. Il sindacato ha avuto una grandissima funzione, che che se ne dica, quando gli operai non avevano nessuna tutela e non cito il fascismo, perché solamente citare il fascismo è una roba, per l'amor di Dio, durante il fascismo all'inizio non c'era niente, non c'era cassa malati, non c'era assicurazione pensione, non c'era tutta una serie di aiuti ai bambini ammalati, eccetera, 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 eccetera. Quindi, quindi, il sindacato ha avuto una grandissima funzione. Perché? Perché ha tutelato gli operai che in certi periodi erano sfruttati, perché bisogna dirsela tutta, non è che i padroni sono sempre stati padroni, la parola padrone qualche volta viene detta in senso dispregiativo perché hanno fatto i padroni e non sono andati molte volte dall'altra parte della barricata, cioè dalla parte degli operai, di coloro che fa il sudor, che si fa i cali sulle mani e deve lavorare in condizioni, alle volte, di grande difficoltà. Allora, il sindacato ha avuto un suo ruolo. Perché? Perché si è messo dalla parte degli operai e ha tutelato, ha stimolato, ha difeso questa parte del popolo che aveva bisogno di persone che li difendesse e ha avuto un grandissimo ruolo. Poi le cose sono cambiate. Allora io mi domando, questo sindacato che è da parte degli operai, quando si tratta di difendere gli operai che hanno i bambini a casa perché è che le due ore di assemblea, che cosa dice? Eh no, perché che è il sindacato degli insegnanti, i quelli hanno la libertà didattica, sono difesi da un sindacato. Allora, i due sindacati, quello del popolo e quello degli insegnanti, si mettono d'accordo? Si mettono d'accordo? Io sostengo che in questo caso ci vorrebbe molto più equilibrio. e vi dico la verità che se fossi gli insegnanti mai e poi mai farei delle assemblee durante l'ora di scuola o della scuola materna, eccetera. La prossima volta parleremo di qualcos'altro. Grazie a tutti.